Design e contract nell'hospitality, retail, ufficio e residenziale. Strategie, arredo e allestimenti. Oggi, martedì 25 ottobre 2016, a Treviso, più di 300 architetti hanno partecipato al convegno di infoprogetto organizzato da Action Group Editora. Tra i molti interventi scientifici, anche la presenza di molte aziende che hanno avuto modo di presentarsi e presentare i propri prodotti. Vediamo le interviste. Fenix è un materiale innovativo, super opaco, nanotecnologico introdotto da Arpa Industriale nel 2013. È un materiale anti-fingerprint con resistenza ai graffi e riparabilità termica dei micrograffi. Il Fenix, come dicevo prima, è questo materiale che è fornibile in spessori 0.9, 1.2, ma anche in spessori compatti che sono 4, 6, 8, 10 e 12 millimetri. Quindi può essere utilizzato in modo assolutamente versatile, sia per piani orizzontali che per piani verticali, nel mondo della cucina, nel mondo del bagno, nel mondo dell'arredo contract, sia per tavoli o per elementi di design furniture o quant'altro. Format mi sembra molto interessante, ci dà la possibilità di ribadire anche l'unicità di Fenix. Nato nel 2013, vincitore di 9 premi internazionali di design, l'unico ad avere una tecnologia di inserimento di pigmenti cromatici e l'uso di resine acriliche e trattamento electron beam con tecnologie in-house all'interno della nostra azienda, del nostro gruppo. Grazie.